Serata importante, la stanza è piena di persone. Io avanzo nel mio vestito semi elegante che spero sia all'altezza dell'occasione. Mentre mi avvicino al bancone del bar con malcelata sicurezza, solita, sento una voce di donna dietro di me che dice qualcosa come Oh yes, I know, I am brilliant, che si traduce con qualcosa come Oh sì, lo so, sono brillante. Per un momento il tempo si ferma, giusto il momento per chiedermi Perché io non dico mai a me stessa o agli altri del resto che sono brillante? Perché sono sempre così insicura? Dopotutto qualche successo l'ho intascato, almeno secondo gli standard previsti da copione Eppure non è mai abbastanza. Mi dico mentre intravedo il mio riflesso allo specchio pronta per notare tutto quello che non va Ah, se solo fossi più sicura in me stessa, se finalmente mi sentissi speciale, brillante, come quella donna laggiù Chissà come cambierebbe la mia vita. Da quella sera ho cominciato a leggere tutto quello che mi capitava sotto mano Per riuscire a sentirmi così. Fino a quando non mi sono imbattuta in un libro che di fatto ha completamente messo in discussione il concetto di sicurezza in noi stessi E mi ha aperto gli occhi sul fatto che questa idea che dobbiamo sentirci più sicura è ampiamente sopravvalutata Aspetta però, prima di procedere ricorda di mettere un like qui sotto ed iscriverti al mio canale di YouTube Così da non perderti più neanche un ceci weekly. Sigla! Secondo Ryan Holiday, autore di Ego is the Enemy L'ego è il nemico Questa idea che dobbiamo sentirci più sicuri è ampiamente sopravvalutata Appena ti cominci di essere speciale, infatti, smetti di metterti in discussione E di conseguenza smetti di imparare Ovvio no? Perché per imparare qualcosa di nuovo devi per forza mettere in discussione quello che già sai Come diceva il filosofo greco Epiteto, non puoi imparare se pensi di sapere già Nel momento stesso in cui smettiamo di mettere in discussione ciò che sappiamo Perché ci convinciamo di essere già sufficientemente brillanti o addirittura geniali Smettiamo di crescere E quando smettiamo di crescere c'è una sola certezza Finiamo per ristagnare nella nostra stessa arroganza E allora mi chiedo, che cosa accadrebbe se invece di cercare di essere più sicuri di noi stessi Provassimo semplicemente a diventare un pochino più coraggiosi Il coraggio in fin dei conti non è qualcosa che possiamo fingere di avere Grazie a qualche affermazione positiva o a un vestito elegante Piuttosto è qualcosa che possiamo acquisire solo attraverso un'azione concreta e costante Dunque mettendoci in gioco Il che è qualcosa che possiamo fare davvero tutti Il vero coraggio infatti non è certo buttarsi da una macchina in corsa giù da un burrone Ma la capacità di procedere a piccoli passi nonostante la paura Coraggio è riconoscere che quello che non sappiamo è molto più grande di quello che sappiamo già Che ogni persona può insegnarci qualcosa nel percorso Che nessuno dei nostri piani è mai perfetto E che se il risultato non dipende da noi Da noi dipende però la determinazione a procedere nonostante le difficoltà Coraggio è renderci conto che più ci apriamo ad imparare qualcosa di nuovo Più ci sentiremo incompetenti sicuro Ma prima potremo riuscire a scoprire la direzione che vogliamo seguire nella vita Coraggio è riconoscere che a volte abbiamo sbagliato tutto Ma proprio per questo ora sappiamo come fare le cose diversamente e come migliorarci Proviamo allora a sostituire al desiderio di voler essere speciali La consapevolezza che ciascuno di noi è semplicemente unico e che possiamo utilizzare la nostra unicità Per costruire il futuro che desideriamo Perché nulla ci è dovuto ma molto molto può essere conquistato Se siamo pronti con coraggio a rimboccarci le maniche 3, 2, 1 La parte più bella comincia ora Condividi qui sotto nello spazio dei commenti Oggi scelgo il coraggio Poi mettiamoci al lavoro perché la vita non aspetta Noi ci vediamo alla prossima Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale E di condividerlo con tutti i tuoi amici E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita Non aspettare un secondo di più E vieni a trovarmi su cecilia.sardeo.it Per accedere ad ulteriori strumenti pratici Che condivido solo via mail Fino al prossimo episodio Un grandissimo abbraccio di luce